Venerdì 23 ottobre. Il brano del Vangelo è tratto dal capitolo 12 di Luca e ci pone questa domanda di Gesù. Sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo non sapete valutarlo? Gesù questa domanda la rivolge proprio a noi oggi. Lo sappiamo, è difficile discernere i segni dei tempi, comprendere in quale tempo stiamo vivendo o meglio come stiamo vivendo il nostro tempo. È difficile in modo particolare in questo tempo di ripresa forte della pandemia. Siamo chiamati a valutare e giudicare la nostra esistenza, il tempo della nostra vita, noi stessi. Spesso non riusciamo a liberarci dai nostri pregiudizi che appesantiscono il nostro sguardo. Altre volte chiediamo aiuto perché siamo troppo invischiati per mettere a fuoco ciò che accade. Poi ci sono anche dei momenti in cui tutto ci appare chiaro, nitido. Riusciamo a rispondere alla chiamata che Dio rivolge a ciascuno di noi. Il Vangelo dice ancora questo. Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? La giustizia di cui parla Gesù ci invita alla riconciliazione con gli altri e con Dio, ma anche con noi stessi. Non è una giustizia che condanna, giudica o esclude. Questa giustizia ci chiama certamente a compiere cambiamenti importanti nella nostra vita. Siamo invitati dal Signore a guardare la nostra vita come la vede Lui, con gli occhi della fede. Signore Dio del cielo e della terra, anche oggi manda il tuo Spirito a illuminare i nostri pensieri, le nostre scelte, i nostri passi. Possano testimoniare la tua giustizia. Buona giornata a ciascuno di voi.